Benvenuti amici, amici di YouTube, oggi parliamo della Renault Clio, questa qua parliamo della storia di quest'automobile, la Renault Clio è stata disegnata da me quando ero ragazzino e ho messo nome Clio perché la moglie dell'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si chiama Clio Giorgio Napolitano è il figlio di mio nonno materno, ingegnere meccanico Francesco Morgillo in Germania si chiamava Franz Einstein, venne in Italia e fece i figli, tra i figli che fece pure Giorgio Napolitano per sapere come è fatto dovete andare su Google e digitare Giorgio Napolitano presidente della Repubblica e la moglie Clio, quindi ho disegnato la prima Clio e dopo con mio nonno materno ingegnere meccanico Francesco Morgillo e la moglie ingegnere elettronica Antonietta Miela abbiamo fatto le successive Clio, quindi la Clio seconda serie la Clio terza serie, la Clio quarta serie, ora ci sta la Clio quinta serie, questa è mia nonna materno ingegnere Miele che ha fatto l'impianto elettrico, sono delle ottime macchine che potete comprare per quanto riguarda l'azienda non è mia, è di una serie di soci, però chiederò il pagamento delle automobili chiederò il pagamento delle automobili, chiederò le azioni della Renault la Renault ha fatto società con la Nissan che invece è mia e ha fatto società con la Mitsubishi che è della famiglia Mitsubishi e io ci ho fatto le macchine, per esempio la Mitsubishi Eclipse è una macchina che ho disegnato io quando ero ragazzo e che hanno fatto i miei nonni vi saluto tante belle cose, potete comprare la Renault Clio, è un'ottima macchina e auguro e tutto, auguro e tutto a tutti, arrivederci Grazie a tutti